video a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi finalmente siamo qui di nuovo con francesco che ci porta la sua deck profile di despia relinquished la versione più forte sono tornati mazzi meme è la versione più forte di despia anche più forte di chimera ovviamente ragazzi però prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da jack store il mio sponsor per l'acquisto di prodotto coreano trovate il mio refer link e il codice sconto ovviamente insieme a quello trovate anche il mio link di instagram perché se volete liberarvi di carta di yuki magic pokemon e one piece scrivetemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare detto questo vada via a reaction alla lista da questo video lo faccio e dico lo faccio lo faccio per in pochi lettori come dicevo i miei 25 lettori come diceva manzoni che vedranno questa profile perché immagino che saremo in due io lui ovviamente mia madre l'ho provato per caso su master 2 l'ho detto minchia ma se potrebbe fa anche su tcg perché almeno ci sono tre prosperity e vedi le cose prima e quindi via via la lista giocando chiaramente tre abbandono uno da structure di pegaso e gli altri comuni di ristampa bruttissimi aspetta non structure mazzo mazzo introduttivo mazzo introduttivo perdona konami se sbaglio vabbè sappiamo tutti che fa ciuccia un mostro se lo equipaggia guadagna l'attacco fine poi i nuovi supporti i due idolo dagli occhi dorati che è una cosa che uno non ci pensa sulla sua normal puoi attivare il suo effetto diventa idolo dai mille occhi che è il vecchio mostro giallone e quindi puoi fare chiaramente la fusione della vecchia e soprattutto ti fa guardare la mano dell'avversario non è come delfino neospaziale che guardi e scarti uno però tu guardi metti che ha che ne so drol inferma cazzo ne so fai già meglio come muoverti che è super sottovalutato è una cosa figa lui che è il mostro più forte perché ci fai equipaggiare in effetto rapido lo scarti un mostro dell'avversario mi pare che fa anche la self protection ma diciamo che l'effetto migliore che utilizziamo è sempre quello di appunto cioè noi ci abbiamo bisogno che abbandono la fusione sia sempre bello ciccione con tutti i mostri possibili equipaggiare poi vai chiaramente giochiamo due riti e tre preparazioni all'inizio l'ho provato con tre preparazioni dei riti senza la magia però vedevo che ogni tanto abbandono diventava morto in mano invece così alla fine riesci comunque a renderlo a renderlo vivo se stiamo giocando tipo nel 2010 è forte voglio dire come mazzo poi ha chiaramente non avevo menzionato la magia che è forte perché è rapida e ha l'effetto secondario di bandirsi per equipaggiare un mostro dell'avversario forte ci serve per fare la fusione abbandono e anche se stanno li posso anche utilizzare da cimitero i materiali quindi è davvero huge poi visto che vogliamo andare secondi perché vogliamo ciucciare più mostri possibili si può dire ciucciare giochiamo un reparto kaiju perché chiaramente ci dà fastidio tutte le negazioni possibili quindi dobbiamo far baitare tutto quello che hanno quindi anche che ne so gli tiri slumber lui è costretto a negare a meno che non vuole perdere la board e poi chiaramente riusciamo ad andargli sopra ciucciando poi oltre il reparto kaiju necessario si potrebbe giocare anche super poli ma mi sembra più divertente coi kaiju gioco il reparto branded che ci serve appunto per andare più velocemente nel evocare lui e lo faremo vedere come quindi due folle noval due caduti un aluber tre branded tre aperture e questo è il reparto diciamo il piccolo reparto branded poi due ferrir tre imperma qui sono flex pot giocate quello che volete e tre prosperity per arrivare prima alla branded fusion sostanzialmente questa è la lista sono 40 carte ora vediamo l'extra per l'extra giochiamo due di quelli nuovi dei 10.000 occhi è molto 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 più forte di quello vecchio però comunque non ho voluto giocare uno vecchio anche per realizzare l'effetto dell'idolo e questi sono le tre fusioni d'archetipo poi giochiamo cinque fusioni di branded sostanzialmente andiamo sempre in in lubelion e anziché evocare mirror jade evochiamo chiaramente il limite dei mille occhi e queste sono le fusioni ora un po di link generici e non abbiamo animo abbandonata per rendere chiaramente viva i kaiju quindi kaiju sulla zona davanti alla zona di extra animo abbandonata e via poi perché ci abbiamo i soldi giochiamo dark che sei povero è uscito ultra quello è super da pacca americana ce l'ho anch'io super da pacche comunque dark perché vabbè giochiamo praticamente tutti oscurità mascherena little light e chiaramente il micro reparto access code poi del me del pover che quelle sono tutte mie le ho tutte eh sfigato sp deve arrivare deve arrivare ah aspetta mi accessco the death col tuo è sfigato adesso lo strappo in diretta no il mio come avete visto nelle altre mie liste ce l'ho gold purtroppo quindi vi lascio qui sotto il mio paypal nel caso volete contribuire no comunque a parte gli scherzi è davvero divertente utilizzare è perché proprio stupido il fatto che tu come meccanica rubi mostri avversari sia con animo abbandonata che con il limite dei mille occhi quindi avete ormai è tutto ristampato quindi non costa niente se volete giocarlo per ride magari non ho un local ma perché no anche un local con amici è divertente e local di basso di vero local di vabbè no ma alla fine alla fine i primi turni sai che più bastonate poi arrivi agli ultimi e fai do chiacchiere e ti diverti non so ti direi di fatte vedere una combo ma in realtà è una combo che tutto sommato sapete cioè tutti sappiamo come funziona despia no ma sembra normale che devo spiegare le liste di delinquici che saranno in quattro a guardarle hai ragione ma per chi per chi è ok così me la spieghi pure a me mandiamo un caduto di albats che non trovo eccolo e un abbandono troppo forte questa cosa quindi mandiamo loro due evochiamo senti impara e impara impara sto qua che ascolto evochiamo l'ubellion effetto l'ubellion e uno dice no adesso evoco mirror jade no no perché che cosa dice l'ubellion rimescola chiaramente l'unica cosa che abbiamo al cimitero in quel momento ed evoca lui e questa è l'apertura incredibile fortissima che vuole fare questo mazzo l'ubellion in difesa e abbandono sul tavolo finito sì perché poi l'ubellion fa altro in realtà ma forse tirare il mirror jade non può essere più forte allora no perché in realtà tutto deve essere fatto sul fatto che io vado secondo no quindi se io che ne so c'ho un kaiju gli kaiju il barone o quello che è evoco lui che prende il mosso e il capo e è finito esatto esatto oppure oppure se ho un livello 1 random è un livello 1 insomma lui vado di anima dove cazzo è di anima abbandonata intanto attivo il suo effetto e gli guardo la mano e questo è già un vantaggio enorme e questo è già un vantaggio enorme oppure poi metto l'amico tuo dietro che ti spiega e questa è la mia strepitosissima lista abbandono considerazioni non ne ho è una lista incredibile lo porteremo sabato al local? no sabato riporto abc per gaetano per gaetano guarda gaetano ma non adesso ti iscrivono nel gruppo ti ammazza c'è abc troppo forte e va bene ragazzi il video abc e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate e se io debba riprendere la mia peppa e se non mi volete più in questo canale per favore mettete tanti dislike vabbè sono interazioni alla fine il video gira comunque detto questo ragazzi ovviamente state ben easy e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti